Salve a tutti ragazzi e benvenuti nell'angolo dello Svapolex, io sono Lelio79 e oggi sono qui per recensirvi il Moradin 25, tank veramente particolare ma senza perdere altro tempo, andiamolo subito a vedere da vicino, poi prove di Svapo e considerazioni finali. Allora ragazzi eccoci qui con la scatola del Moradin 25, come potete vedere qui davanti la scritta Moradin 25, due varie colorazioni del nostro Moradin, il nostro sarà in still style, come possiamo vedere anche da questo lato, se no sarebbe stato contrassegnato il colore black, da questa parte il logo Sig Cloud, da questa parte altri simboli della specificazione, qua il logo 100% Genuine Production e nel vano sottostante varie descrizioni del prodotto e vari loghi di smaltimento e normative. Andiamo a tirare via l'involucro, qui vediamo subito il nostro bel Moradin, scatola in plastica ragazzi, sottostante alla scatola in plastica abbiamo il logo Moradin, i Cloud Sig Moradin 25 RDA in Game Charge, il nostro bel scratch and check per l'originalità del prodotto, alcune descrizioni e alcuni simboli. Ok, da un lato il marchio Moradin, perciò andiamo subito ad aprire, ok, troviamo subito un Pirex di ricambio ragazzi e il nostro Moradin 25, ok, andiamolo subito a vedere da vicino, vediamo un attimino il marchio Moradin 25, sottostante il numero di serie, il marchio CE, alcune descrizioni, il marchio di smaltimento, allora andiamo subitissimo a vedere un pochino l'interno, allora intanto si smonta il drip tip, come potete vedere c'è il filetto, adesso se la camera permette di mettere a fuoco, perfetto, con 1R di tenuta, ok, continuando a smontare abbiamo questo anello che praticamente sarà poi il tappo per fare il refill del liquido, ok, questo è un altro, pochino, poi smontando la parte sottostante ragazzi, accediamo praticamente al discorso per le coil, io questo ottimizzatore l'ho già rigenerato con un filo 26 gauge in NIC chrome 80 su punta da 2,5, perché le sue coil, come dopo vi farò vedere, secondo me sono un pochino troppo grandi ragazzi, perché le coil che ci danno di serie sono montate su punta di 3 e quindi è abbastanza piccolo questo atomizzatore, o comunque è abbastanza piccolo, è la camera dove andrà poi l'alloggiamento di tutto quanto, come potete vedere all'interno è abbastanza piccolo, continuando a smontare, ok, questa qui viene svitata e praticamente viene via il camino ragazzi, qui potete tirare via il vostro pirex e qui abbiamo la particolarità di questo atomizzatore ragazzi, questo atomizzatore praticamente questa è una camera, ok, in ceramica, a cosa serve questa qui? Praticamente serve per non far sì che l'atomizzatore si scaldi troppo o comunque i materiali in ferro, comunque come voi sapete, sono suscettibili a riscaldamento o comunque irradiano molto il calore, quindi la camera in ceramica dovrebbe contenere il calore interno di questa camera ovviamente e di conseguenza dovrebbe preservare di più l'aroma, di fatti questo atomizzatore, anche se è un tank, sarebbe quasi un po' più vicino al flower chasing e di conseguenza è stata fatta questa particolarità della camera in ceramica proprio per riuscire a preservare l'aroma. Continuando un attimino, vedete, adesso vi faccio vedere la particolarità del deck, ok, due colonne stile velocity con le due viti che serrano i fili, ok, questo R praticamente serve per il controllo dell'aria e per la chiusura del liquido, ma dopo vi farò vedere a modo, ok, questo era l'atomizzatore, continuiamo all'interno del, vabbè queste non c'entrano niente, ce le ho messe io, e all'interno abbiamo un altro drip tip in sostituzione, ok, sempre filettato, adesso se la camera riesce a mettere a fuoco, no, ok, comunque qui c'è un filetto ragazzi, ok, e all'interno abbiamo il sciacchettino con vario ring, le coil che vi dicevo, che sono costruite su punta di tre, però secondo me sono un pochino troppo grandi, quindi gliel'ho fatta di diametro più piccolo con un filo, come vi dicevo prima, 26 gaugia. Adesso andiamo subitissimo a rimontare il nostro tank ragazzi, perché così l'andiamo subito a riempire con del liquido e l'andiamo a provare. Piccola avvertenza, se vi cade questa, questa camera qui in ceramica, avete buttato via praticamente tutto l'atomizzatore, vi tocca comprare uno nuovo, non si riesce a trovare, o perlomeno io non sono ancora riuscito a trovare i ricambi, non che mi sia caduto e mi sia rotta, però ho fatto delle ricerche un pochino per vedere se ci sono pezzi di ricambio, bene o male si riesce a trovare quasi tutto quanto, persino il vetro, però questa non riuscite a trovarla. Quindi ragazzoli, un minimo di attenzione, fate un po' di accortezza quando lavorate attorno alla rigenerazione di questo, oppure quando volete pulire tutto quanto, perché quella camera lì praticamente è oro, ecco come mi sta succedendo a me adesso. Allora, rimontiamo il nostro tank, ok perfetto. Io andrei a cotonare il nostro deck, vi mostro come va cotonato. Allora, eccoci qui con la nostra cotonatura, siccome che le coglie sono costruite su punta da due e mezzo, ci vuole cotone sì, ma non troppo perché se poi va a strozzare, dopo il cotone non riesce a bere tutto il liquido, non riesce ad andare le coglie, non riesce a bagnare bene, quindi facciamo la punta da una parte, inseriamo qua, fa resistenza ma non troppa, poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte, se io mi aiuto inizio perché se no non ce la faccio, ok, più o meno così. Andiamo a tagliare l'eccedenza, più o meno ragazzi, in mezzo centimetro, misura più o meno sempre quella, mezzo centimetro anche dall'altra. Spumiamolo bene perché ovviamente qui si è bello rollato, noi lo vogliamo un po' spumoso. Ok. Ora, questo cotone praticamente dobbiamo andare a inserire nelle asoline qui sotto e sarà un bel compito abbastanza difficile, però noi cerchiamo di riuscirci. ok. Ok. ragazzi più o meno un lavoro del genere perciò andiamo subito ad attivare adesso ci andrò a mettere del liquido tornado juice romagna ragazzi frutti amari e dolci adesso vi porterò anche la recensione di questo liquido e della via che magari lo metto sul moradine la recensione magari la farò proprio su questo atomizzatore così vediamo anche come va allora accendiamo anche il banco prova così facciamo delle piccole attivazioni per poter fare attivare il cotone vediamo una toccatina anche qua le coil le abbiamo attivate proviamo a vedere se attivano da dio comunque ragazzi montate le coil e siamo sui 2 e 20 0,2 e 20 ohm andiamo a riempire il nostro tank però prima di riempirlo ragazzi vi devo far vedere che praticamente quando voi andate e riempite questo tank ragazzi dovete chiudere l'anello questo anello lo dovete tirare su questo fa sia da controllo dell'aria come potete vedere qua girandolo va a fare da controllo dell'aria vedete ci sono le asole d'aspirazione e se lo tirate su andate a chiudere il liquido e di conseguenza chiudete anche l'aria andiamo a mettere qua qua di liquido ragazzi potete metterne veramente veramente tanto ce ne sta veramente un botto di liquido qui sopra in questo tank perché è veramente enorme perciò andiamo a chiudere col tappo superiore e tiriamo giù il controllo del liquido ragazzi vedete le bollicine che stanno iniziando a salire perfetto il liquido sta iniziando a entrare nel nostro tank perfetto guardate perfetto ragazzi allora questo era il moradin visto da vicino adesso lo monteremo sopra una box intanto che aspettiamo che le bollicine continuino a salire e facciano il loro lavoro e passiamo subito alla prova di svapo e alle considerazioni finali è sbalorditivo cioè questo tank ragazzi è grosso perché è veramente grande cioè guardate guardate la mia mano ok cioè la sto guardate è quasi la lunghezza della tesla è veramente grande come peso anche sopra la tesla io non voglio scherzare ma secondo me a due etti ci arriviamo difatti come peso il moradin è un atomizzatore veramente veramente grande però secondo me vale veramente la pena comprarlo perché per il discorso che la camera gli preserva l'aroma mantiene lì il calore è una cosa fenomenale ragazzi come vaporosità l'avete visto cioè ne fa veramente tanto l'aroma c'è veramente tanto perché lo stesso liquido l'ho provato anche sul gun e vi devo dire che l'aroma non è proprio uguale uguale però non è neanche tutta questa gran pelle cioè nel senso l'aroma c'è veramente tutto il sapore del liquido si sente veramente tanto e come atomizzatore secondo me ne vale veramente la pena poi la storia della regolazione qui dell'aria della chiusura del liquido nel caso che voi magari non non volete più magari cioè non svapate continuamente perciò lo lasciate lì una giornata voi chiedete il liquido non avete problemi che vi piscia cioè è veramente comodo poi è totalmente smontabile perciò voi potete pulire qualsiasi parte dell'atomizzatore cioè è veramente fantastico per me un atomizzatore così è secondo me anche meglio del TFV8 il TFV8 di vapore ne fa veramente tanto perché con le sue coil è veramente un tank molto molto valido però il Moradin ragazzi secondo me non c'è storia che tenga cioè non c'è storia che tenga poi io adesso lo sto tenendo praticamente la Tesla sto tenendo al minimo cioè siamo sui 60 W ok anche perché spingerlo oltre poi magari non ce n'è neanche tanto bisogno perché comunque con delle coil su punta di 2,5 a 0,22 ohm di resistenza cioè non c'è poi così tanto da spingere non è un dripper che dovete fare delle nuvole questo è da Roma lo spingete molto sulla Roma lo uccidete praticamente quindi non avrebbe neanche senso di conseguenza se uno vuol fare devalpore si prende un dripper e ha già fatto questo qui invece è un tank che è da svapo normale non compulsivo cioè è la sua morte ragazzi è la sua morte non costa tantissimo secondo me siamo sui 35-40 più o meno dipende dove l'andate a comprare forse anche qualcosina di più ma secondo me è un tank veramente veramente buono perciò ragazzi questo è tutto io vi lascio i link in descrizione spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like passate dai vari canali noi ci rivediamo in un prossimo video e io vi saluto con l'ultima svopata ciao ragazzi